Va bene, allora oggi ci occupiamo in questa prima ora di terminare questo esercizio, questo tema d'esame del gennaio 2017, ah 2011, 2017, infatti questo 2011 è sbagliato, il data giusto 2017. Allora dove avevamo la volta scorsa completato la costruzione del grafo nel punto 1 e adesso ci occupiamo della simulazione, tra l'altro la volta scorsa che ci eravamo visti eravamo rimasti in sospeso col progetto di Emergency, c'era ancora un baco, non so se avete avuto modo di guardare su GitHub, c'è un ultimo commit in cui ho semplicemente corretto due righe l'errore era nel fare la pick anziché la poll dalla coda della lista d'attesa, quindi succedeva che la stessa persona veniva considerata due volte dalla lista d'attesa anziché una volta sola, corretto quello, ho fatto qualche esperimento mi sembra che i risultati quadri, è interessante vedere come è fortemente non lineare, nel senso che a volte aggiungi gli studi eccetera ma non cambia niente il risultato perché il sistema magari sta già viaggiando le sue capacità, cambi qualche cosina e il risultato cambia anche di molto, questo se vogliamo dimostrazione del fatto che molti sistemi si prestano molto poco a essere modellati in modo matematico perché hanno delle discontinuità molto forti, ma vabbè torniamo al nostro caso, noi avevamo il grafo qua delle nazioni e si chiede di simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in un stato iniziale, selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo, selezionato dall'utente significa che in questa tendina nazione dovrò inserire tutte le nazioni che erano presenti nel grafo in modo che l'utente le possa selezionare e poi premere simula, qui non c'è interfaccia utente prevista per modificare i parametri della simulazione, non ci sono parametri da inserire, quindi procede con dei parametri standard diciamo, questi parametri standard sono mille integrati iniziali a tempo 1 e una simulazione a passi dove il tempo non rappresenta un valore in minuti, in ore, in giorni ma semplicemente una serie di step, di passi successivi. E la regola è sempre la stessa, nel senso che io ho un momento in cui ho degli immigrati che entrano in uno stato, da uno stato precedente oppure immessi dall'esterno e all'azione di entrare ciò che succede è che metà diventano stanziali e l'altra metà invece deciderà di spostarsi dal passo successivo negli stati vicini. E ovviamente spostarsi nei stati vicini causerà un effetto di ingresso di queste persone al tempo t più 1 essenzialmente. Quindi sembrerebbe un tipo solo di evento, adesso ce lo proviamo a scrivere, ma sembra che il tipo di eventi siano uno solo, che è l'arrivo di persone in uno stato. Quindi arrivano delle persone, una parte di queste persone diventano stanziali e una parte invece si sposta. Si sposta dividendosi in parti uguali tra tutti gli stati confinanti. E qui ci sono un po' di regolette che ci dicono come dobbiamo trattare per cui ad esempio se io ho 40 persone che hanno deciso di essere non stanziali, quindi sono il 50% approssimato per difetto, quindi diciamo inizialmente ne sono immigrati 80, di questi 40 sono rimasti e 40 si spostano. Se ci sono tre stati confinanti, ciascuno di stati confinanti si sposteranno 40 diviso 3 approssimato all'interno inferiore, quindi 13, 13 per 3 fa solo 39 e quell'1 diventa stanziale alla fine. Quindi devo fare attenzione a fare questo conticino. Come caso particolare se il numero di persone non stanziali presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti, quindi in questa divisione ho 4 persone e 5 stati confinanti e la parte intera della divisione fa 0. Quindi in caso particolare precedente, 0 persone si sposteranno in ciascuno degli stati confinanti, vuol dire che tutti questi rimarranno stanziali anche loro. Nella scelta dei spostamenti tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone ed è possibile che alcune persone ritornino indietro al tempo T2 nel senso stato in cui erano al tempo T. Questo è semplicemente un commento sulla regola generale che continua a valere, che è un fenomeno che non deve essere trattato in nessun modo particolare, succede appunto. Succede sulla base della regola degli stati confinanti. Quindi a un certo punto la simulazione, la simulazione si esaurirà perché tutti i mille saranno diventati stanziali in qualche stato che magari non è proprio quello di partenza, ma sono stati raggiungibili, non necessariamente adiacenti, non necessariamente confinanti direttamente, sono raggiungibili attraverso uno o più passi di migrazione. Allora noi dobbiamo calcolare il numero di passi di migrazione prima che queste migrazioni si esauriscano. A un certo punto, da un certo T in avanti, non ci sono più sufficienti persone per potersi spostare in nessuno degli stati, questa divisione fa sempre zero e quindi mi fermo, non creo eventi nuovi. Allora quanti passi di migrazione ho fatto? A quanto è arrivato al valore della mia variabile tempo simulato? E poi per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti, ordinato in ordine decrescente per numero di persone. Vabbè, questo appunto vuol dire che al termine della simulazione ho l'elenco degli stati e in ciascuno dei quali conosco anche il numero di persone. Ok, allora come aggiungiamo questo? Allora immaginiamo che la nostra classe modello, che ha già delle cose, si possa avvalere di una classe simulatore nella quale andiamo a costruire i soliti metodi. Quindi il simulatore non lo implemento direttamente dentro il model, ma lo implemento separatamente perché poi alla fine avrà quei tre quattro metodi necessari del simulatore che così teniamo separati degli altri metodi del model che in realtà sarebbero richiamabili anche dal controller, mentre quelli del simulatore sono interni. Quindi noi ci facciamo la nostra classettina simulator che sviluppiamo, possiamo testare eccetera e poi la potremo, la dovremo agganciare al modello la quale la richiama quando il controller lo richiede. Quindi per implementare il simulatore ci facciamo le solite domande che ci facciamo sempre. Quindi quali sono le tipologie di venti, quali sono il modello del mondo essenzialmente, quali sono i parametri di simulazione e quali sono le variabili in output. tipo di eventi, barra cosa degli eventi, chiamiamola. Allora che cos'è il modello del mondo? Partiamo da qua. Cioè durante questa fase di migrazione qual è la parte statica? Se io fotografo la simulazione in un certo momento che cosa vedo? Vedo l'elenco degli stati e in ciascuno stato un numero che mi dice quante persone sono stanziali in quello stato? Quante persone sono lì e non si muoveranno più gli stanziali finali. Quindi la simulazione parte con zero ovunque e ad ogni evento elaborato qualche stato, il numero di persone stanziali in qualche stato aumenterà. Questa è la parte, diciamo, il modello del mondo, lo stato del sistema è sempre un'informazione statica. Se lo fotografo in questo istante cosa vedo? L'informazione dinamica di che cosa succede, cosa sta per succedere, ce l'ho dentro la coda degli eventi, che si porterà dietro l'informazione su che cosa sta per succedere. Allora, quindi il modello del mondo io lo posso probabilmente modellare semplicemente con una mappa che a ciascuno stato associa un numero intero, che è il numero di persone stanziali. Potrebbe essere una mappa che a ciascuno stato country associa un intero. La posso chiamare stanziali, così mi ricordo che cos'è. che partirà da tutti zero e poi via via si incrementa. Non mi sembra che mi serva altro, no? Molto semplice questo simulatore. I parametri di simulazione sono essenzialmente per il momento il numero di, scusate, dimentico sempre private, è il numero di persone che vengono iniettate al tempo zero, numero di migranti, totale. Tra l'altro questo numero si conserva, nel senso che se ne ho messi mille, alla fine me ne troverò mille sparsi nei vari stati. Quindi magari non verifico che posso fare sull'output. Valore in output, che cosa c'è? Vabbè, il valore in output ci sono gli stanziali, quindi in uscita devo rendere visibile quali sono le persone presenti in ciascuno stato e il numero di passi di simulazione. che è il numero intero, chiamiamolo T. E questo è il numero di migranti, impostiamolo a mille, visto che è ciò che ci dice il testo. Allora, il nostro evento, chi cos'è? No? Fin qua ci siamo. Il nostro evento che cos'è? L'evento è cosa fa evolvere il sistema da uno stato a uno stato diverso, è il fatto che alcune persone si spostano. quindi il fatto che alcune persone si spostino devo dire mi interessa sapere dove vanno cioè lo spostano da un punto A al punto B il punto A da cui provengono non mi interessa perché nello stato A di provenienza erano comunque persone transitorie, non stanziali e quindi non le avevo contate il punto B, cioè lo stato di arrivo, mi interessa perché lì dovrò andare a fare permanere metà e fare i conticini sugli altri. Quindi ho un evento creiamo una classe evento che ovviamente implementi Comparable e il mio evento Comparable di event sempre in questo caso ho un tipo solo di evento quindi non ho bisogno di event type per dire qual è il tipo di evento un tipo di evento solo che contiene ovviamente come sempre un tempo chiamiamolo T e conterrà il numero di persone che si spostano e lo stato di destinazione Private Int Num quante persone si spostano e un private Country e lo chiamiamo Destination Nazione di destinazione Quindi questa simulazione in realtà partirà iniettando un unico grosso evento in cui dice guarda tutti i mille li emetto inizialmente in questo stato e poi da lì simulatore parte elaborando questo evento li smista e così via Quindi questa classe molto semplice da implementare avrà il costruttore i getter e setter per queste tre variabili fondamentalmente servono solamente i getter se vogliamo quindi i setter per pulizia potremmo toglierli e poi ci aggiungiamo un toString perché così in debug riusciamo a vedere qualcosa e infine la cosa più importante è il comparatore che deve confrontare i due valori di t quindi dis.t meno adar.t e mi dà un ordinamento crescente per valori di t allora avendo definito questa classe che contiene questi tre campi nel simulatore posso definire la corda prioritaria di eventi ok a questo punto posso costruire i metodi del simulatore ho un metodo per inizializzarlo che può essere il costruttore stesso oppure un metodo init a nostro piacere a questo punto pertanto questo simulatore viene chiamato dal model quindi farà le cose giuste non dice di essere chiamato dall'esterno però per mantenere la stessa struttura delle altre implementazioni chiamiamo questo metodo init quindi abbiamo un metodo public void init inizializza il simulatore che informazioni devo dare al simulatore per partire beh dovrò dirgli qual è il grafo delle nazioni e qual è lo stato iniziale da cui partire quindi gli passo il grafo il grafo e grafo attenzione che è parametrizzato ovviamente con country default edge e poi gli dovrò passare come secondo parametro il account di partenza a questo punto con questo il metodo di inizializzazione si deve preimpostare tutte le strutture dati che serviranno e per evitare errori come la volta con l'esercizio della volta scorsa in cui al secondo run avevo delle strutture dati sporche ci ricostruiamo tutto da zero come vedete nella classe non ho definito nulla non ho creato ancora nessun oggetto li creo tutti nell'init così ogni volta che chiamo init cancello tutto e riparto da capo allora cosa fa l'init l'init deve creare la coda degli eventi inizialmente vuota poi ci mette dentro l'evento legato alla partenza azzera il tempo e azzera la mappa degli istanziali allora partiamo dalle cose semplici tempo uguale zero zero uno fatemi solo vedere al tempo t uguale uno tutti gli ingrati sono posizionati in un stato iniziale ok qui lo mettiamo uno poi gli istanziali allora devo creare una priority queue di eventi qui non ho bisogno di passare stupido scusate è un'altra cosa devo creare una nuova mappa country integer e per ogni hash map devo importare già la punto utile per ogni adesso la mappa l'ho creata ma è vuota non contiene nulla devo popolarla mettendo dentro tutti i zeri perché altrimenti la prima volta che faccio get italia mi dà null pointer exception allora per ogni stato del mio grafo aggiungerò aggiungerò a stanziali put un nuovo elemento che associa allo stato al country c il valore 0 quindi creo una mappa nuova e questa mappa la popolo con tanti zeri uno per ogni country tra le country presenti nel grafo ovviamente fatto questo posso inizializzare la corda degli eventi creando una nuova questa volta sì per l'odio tq di event non ho bisogno di passare un comparatore perché l'oggetto event è già automaticamente comparable sul valore giusto cioè il tempo e posso iniettare nella corda degli eventi l'evento iniziale quindi dentro q posso aggiungere un nuovo evento che ha come tempo t come il secondo parametro era la country di destinazione è quella di partenza e qua quante persone dove sono il primo e il secondo parametro il secondo forse il numero di persone è il secondo parametro quindi il numero di persone è n migranti quindi ho impostato t uguale 1 e quindi sto dicendo guarda che al tempo t uguale 1 arriveranno mille persone in quello stato al metodo run la prima volta che estrarrà un evento il primo evento della lista si troverà quello e solo quello da lì però partirà una cascata di altri eventi ok prima di uscire dal metodo init però mi chiedo questi parametri il valore di questi parametri mi serve ancora qualcosa adesso l'account di partenza non mi dovrebbe servire più cioè mi è servita per inizializzare la cosa degli eventi ma poi la disimulazione va avanti per conto suo mentre invece il grafo mi serve ancora perché poi nell'elaborare l'evento io devo chiedermi continuamente quali sono gli stati adiacenti quindi affinché questa classe possa lavorare deve salvarsi anche localmente un riferimento al grafo in qualche modo come parte privata del modello del mondo quindi ce lo salviamo da qualche parte e qui ho pronta la coda degli eventi e tutti i zeri in tutte le nazioni adesso posso darmi da fare sul metodo run vai lancia la simulazione che terminerà quando la coda degli eventi sarà esaurita cioè la condizione di terminazione di questa simulazione è semplicemente l'esaurimento della coda degli eventi non ho limiti di tempo o altro quindi while è uguale q.pol diverso da null all while not q.isempti e poi dentro faccio q.pol la stessa cosa quindi faccio il pol lo salvo dentro e e se e non è nullo devo farci qualche cosa allora cosa avrei qua normalmente in un simulatore avrei un bello switch e punto event type qui di event type ne ho uno solo quindi per fortuna non ho quel livello di switch ho un solo tipo di evento dovevo semplicemente elaborarlo quindi salviamoci un po' di informazioni di comodo quanti sono gli arrivi sono e punto get num e lo stato sono e punto get country get destination lo chiamavamo quindi noi dobbiamo prendere questi arrivi e dividerli in due metà una metà che si sposta e una metà che rimane dopodiché la metà che rimane facciamo attenzione perché si deve anche prendere i resti delle divisioni di quelli che si sono spostati quindi forse la cosa più semplice è calcolare quanti si spostano in ogni stato adiacente e poi la differenza rispetto agli arrivati sono quelli stanziali così evito di fare conti due volte quindi per sapere in quanti stati si spostano devo vedere quante nazioni adiacenti e poi quali anche avrà questo stato allora posso chiedere posso chiedere al grafo quali sono le nazioni adiacenti graff graffs punto ne scusate eccolo qua neighbor list of è quella che ci piace che è dato un grafo e un vertice v mi dà una lista di vertici questo è un grafo non orientato quindi non mi serve prendere i successori i predecessori neighbor list è la versione non orientata degli adiacenti un grafo orientato anziché neighbor list userei predecessor o successor list of in questo caso io posso memorizzarmi mi serve conoscere una lista di vertici confinanti che è ottenuta dai vicini dai neighbor su questo grafo della stato di arrivo lista devo farla java.util ok quindi so quali sono i stati confinanti vediamo quante persone devono migrare in ciascuno di questi stati confinanti quindi i migranti non sono altro che gli arrivi diviso 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 2 a sua volta diviso i confinanti il numero di stati confinanti quindi confinanti è la lista punto size è il numero di quanti stati confinanti che ho questi sono tutti numeri interi quindi queste divisioni già di per sé troncano il risultato quindi approssimano l'intero inferiore a questo punto posso depositare questi migranti in tutti gli stati confinanti se questo valore è diverso da 0 se queste divisioni qua mi danno un valore uguale a 0 basta mi fermo non genero più altri eventi perché il numero di persone che si possono spostare in base delle mie regole è diventato 0 se invece qualcuno si può spostare andiamo a spostarli quindi se migranti diverso da 0 genero degli eventi di arrivo di questi migranti in ciascuno degli stati confinanti quindi abbiamo abbiamo detto e cicliamo su tutti i confinanti country di arrivo ciclando su tutti i confinanti e su ciascuno account di arrivo creo l'evento di arrivo appunto quindi queue punto add new evento a che tempo? beh il tempo t più 1 quindi e punto get t più 1 quindi prima elaboriamo tutti gli eventi al tempo t poi quel tempo t più 1 poi il numero di persone che migra che sono migranti e l'ultimo parametro è lo stato verso cui migrano che è arrivo quindi ho 5 stati confinanti ciascuno si prendono mille persone 5 stati confinanti delle mille persone 500 saranno migranti divise su 5 stati saranno 100 in ogni stato quindi innietto 120 scusate 5 eventi da 100 persone ciascuno nei 5 stati confinanti per il tempo t più 1 fatto questo ho finito diciamo così di considerare le persone che si devono spostare e mi calcolo quante sono le persone che invece sono rimaste ferme sostanziali quanti saranno quelli che erano arrivati meno quelli che si sono spostati quindi migranti per confinanti punto size che a meno di errori dell'arrondamento sarà la metà di errori di approssimazione dovuta all'arrondamento delle divisioni sarà la metà una cosa notavo che io qui una divisione può essere uguale a 0 questo denominatore non deve essere uguale non può essere uguale a 0 per come ho costruito il grafo perché ricordiamoci che nel punto 1 che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo aggiunto un vertice solo se aveva almeno un confine quindi qua bisogna fare attenzione a aver costruito bene il grafo nel punto 1 perché se nel punto 1 per diciamo così superficialità incautamente avete messo dentro tutte le country anche quelle che non avevano confini poi qua vi trovate il rischio di avere una country che l'utente abbia scelto una country di partenza che ha 0 confinanti e qua vi da un'eccezione di divisione per 0 ma per come hanno impostato l'esercizio avendo fatto bene il punto 1 non può succedere quindi ogni ogni stato ha almeno un confinante ok una volta che ho calcolato gli stanziali devo incrementarli nel mio modello quindi dirò che i miei stanziali ops lo chiamate allo stesso modo chiamerò rimasti this punto stanziale punto put nello stato che sto considerando io ho un numero di persone che è pari a quelle che già c'erano qui non parto da 0 perché magari in questo stato ci sto arrivando per la quarta volta quindi prendo punto get di stato quanti c'erano più quelli rimasti quindi nel caso diciamo così di esaurimento cioè in cui non ho praticamente migranti in uscita perché queste divisioni si approssimano 0 rimasti saranno uguali agli arrivi quindi tutte quelle persone rimangono in questo stato se invece qualcuno si è spostato allora nello stato rimarranno solamente gli arrivi migranti quindi una parte inferiore fine fine nel senso che cosa rimane ancora simulazione fatta rimane ci serve riuscire a portare fuori le informazioni che servono che sono il numero di passi di simulazione e le persone rimaste in ciascuno stato le persone rimaste in ciascuno stato ce le abbiamo già perché questa mappa è stanziale quindi basta che noi mettiamo un getter per questo siamo a posto dall'esterno possono interrogare quante persone ci sono poi vabbè dall'esterno le vogliono ordinate se lo ordineranno poi il model lo ordinerà io qua ti fornisco i dati poi vedi tu come li devi presentare l'altro dato che mi chiedeva è il numero di passi di simulazione io come faccio a sapere il numero di passi di simulazione devo prendere il massimo valore di t che ho visto in questo caso poiché la coda degli eventi è ordinata proprio per valori di t crescenti il massimo è anche l'ultimo qual è il t più grande che ho visto quello è il valore che devo restituire quindi mi devo tenere traccia adesso qui il tempo lo gestisco tranquillamente nel senso che ogni evento ha un tempo maggiore del precedente però devo anche salvarmi da qualche parte qual è il tempo in cui inietto gli eventi qual è l'evento col tempo più alto che io abbia mai visto e l'ultimo che ho estratto e quindi basta che io mi salvi dentro t e punto get t questo t sono dentro un ciclo il valore non lo sto usando non lo sto modificando dentro il ciclo questo t semplicemente sto salvando il tempo dell'elemento che ho estratto quando esco quando esco quando esco il ciclo il valore di t sarà pari al tempo dell'ultimo elemento che ho estratto non che ho inserito perché lì posso inserire gli tempi precedenti l'ultimo che ho estratto e l'ultimo che ho estratto sarà ovviamente il tempo più alto vuol dire che dopo quel tempo non ho inserito nulla e quindi non ho più estratto nulla e quindi quello è il tempo massimo di durata della simulazione allora ci saranno due getter per t che ho calcolato qua e per stanziali Mike Lips ce li sa fare il getter abbiamo detto mi serve un get di t e un get di stanziali e qui dovremmo essere a posto adesso questo è il simulatore per poterlo testare o ci facciamo un metodo di test oppure tanto manca poco è poca roba possiamo direttamente agganciarlo già all'interfaccia grafica allora l'interfaccia grafica deve innanzitutto permettere all'utente di selezionare lo stato di partenza che è questa casella nazione questa casella nazione che si chiama box nazione dobbiamo innanzitutto popolarla perché per ora è vuota quindi il controller dovrà innanzitutto popolare questa casella e poi quando l'utente clicca su simula lancia simulatore passandogli questo dato quando popola questa nazione dopo che ha calcolato i confini cioè dopo che ha costruito il grafo ok quindi teniamo in caldo il simulatore che ci serve tra un attimo torniamo al nostro controller e diciamo caro controller quando tu hai calcolato i confini dopo che hai stampato queste belle cose non hai finito ma devi aggiornare la tendina con gli stati attualmente presenti nel grafo e come faccio come fa il controller a sapere quali sono gli stati potrebbe estrarli da quel country number che gli ha dato il modello solo che dentro country commander c'è sia la country che il number quindi devo fare un ciclo e andarmi a estrarre solamente le country mi servono solamente quelle da inserire nella tendina ma la cosa più antipatica è il country number se non sbaglio è ordinato per numero mentre nella tendina sarebbe bene averli ordinati in modo alfabetico giusto? e quindi chiediamo al modello se ce li dà queste cose l'elenco degli stati ordinati in ordine alfabetico quindi possiamo dopo che ho creato il grafo di sicuro il modello sa quali sono gli stati ce l'ha nel vertex set però anche lì il vertex set non lo voglio perché il vertex set essendo un set è disordinato quindi chiederò al modello per favore dammi questi stati ordinati così li posso mettere nella tendina la tendina è box nazione punto get items è una lista è una lista di items che io svuoto perché magari è la seconda o terza volta che richiamo questo metodo e quindi devo ogni volta ripulire quello precedente e lo riempio con quindi faccio un addol di che cosa? di model.getcountries getcountries nel modello non ce l'ho però andiamo a vedere il modello che cos'ha il modello ha una lista countries che abbiamo usato per creare il grafo quindi piuttosto di andare a estrarre il vertex set dal grafo abbiamo già una lista countries che potrebbe già fare il caso nostro l'unica cosa che non so è come è ordinata questa lista perché al controller la voglio dare ordinata in ordine alfabetico allora andiamo a vedere dobbiamo tornare indietro getcountriesfromear che era il metodo che popolava creava questa lista countries non li ordinava in nessun modo particolare e non aveva bisogno che fossero ordinati in nessun modo particolare quindi la cosa che ci costa di meno piuttosto che non per avere la lista poi fare una copia poi ordinare la copia per nome fare il cento comparatore eccetera e già estrarre la database ordinata in modo crescente quindi ci aggiungo una clausola order by state state nme crescente quindi dammi tutte le country il cui country code sia nell'insieme che piace a me ma poi alla fine ordinano per nome di stato crescente e nell'oggetto country controlliamo solo di avere un toString che sia semplicemente il nome della nazione probabilmente perché è ciò che vedremo nella tendina se io aggiungo la tendina agli oggetti country vedrò country.toString toString cosa mi dava qua mi dava sia l'abbreviazione che il nome direi che non ci serve e stituiamo direttamente il nome l'abbreviazione ci serviva perché quando facciamo un debug almeno avevamo anche quel dato però e qui quando si va a toccare il modello ovviamente si occupa di tutti questi problemini estetici l'ho messo in ordine cosa ho stampato eccetera quindi torniamo a livelli un pochino più bassi rispetto a quando si fanno gli algoritmi però se allora a questo punto avendo visto che country si stampa bene nella tendina quindi ha un toString che non era bello ma l'abbiamo fatto bello noi e che il modello adesso ha una lista di countries che è garantito che salti fuori in ordine alfabetico mentre prima non era garantito allora il modo più semplice è quello di aggiungere al mio modello il getter per la lista countries così il ecco qua il getter di countries così il controllore il controller può tranquillamente usare quella lista poi dal punto di vista del grafo non cambia niente perché il grafo si vede arrivare una lista che è ordinata in ordine alfabetico ma a lui mica interessa l'errore che c'è ancora residuo qui probabilmente è dovuto al fatto che non ho infatti ancora specificato che la combo box dovrà contenere oggetti tipo country model country allora questo possiamo già testarlo cioè possiamo vedere che alla costruzione del grafo effettivamente la tendina delle nazioni si dovrebbe popolare nel modo giusto così poi abbiamo agganciato il primo pezzo poi aggancieremo il secondo che è quello della simulazione proviamo a lanciarlo quindi mettiamo anno 2000 calcolo i confini stati eccetera eccetera nella tendina a questo punto dovrebbero essersi stati presenti in quell'anno se io faccio 1800 non ci sono stati corrispondenti scusate 1950 qual'era che mancava l'Austria mancava come Austria non c'era già vabbè dovrebbero essere quelli insomma non mi viene in mente nessun controllo di uno stato che ci fosse nel 2000 e non nel 1950 ok adesso dobbiamo a questo punto l'utente sceglierà uno stato e clicca su simula ok agganciamo simula torniamo al controller quindi dal punto di vista del controller lui cosa deve fare verificare che l'utente abbia selezionato uno stato e chiedere al modello fai la simulazione con questo stato quindi verifichiamo che l'account di partenza ci sia uguale quindi abbiamo il box nazione punto get value e il get value può essere null può essere null per due motivi o perché l'utente non ha selezionato niente oppure perché non poteva selezionare nulla perché non ha ancora fatto calcolo a confini in entrambi questi casi ovviamente non posso andare avanti però se c'è un valore qui vuol dire che la tendina è stata popolata e quindi i confini sono stati calcolati quindi il grafo è stato creato quindi l'unico controllo che devo fare qua è semplicemente che questa partenza sia diverso da null se invece partenza fosse null allora dirò all'utente errore selezionare un'azione ed esco dal metodo e invece vado avanti è un problema del modello quindi dirò model punto simula a partire da la nazione di partenza e poi sulla base della simulazione gli chiederò di dirmi il tempo massimo e l'elenco delle nazioni bla 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 l'elenco delle nazioni che tra l'altro mi serve il nome dello stato e il numero di persone presenti quindi un country e un numero posso riusare quella classe country and number la riuso in un modo diverso perché all'epoca country and number prima era la country e il numero di confinanti adesso userò quello stesso oggetto come country e numero di persone però sempre un numero intero l'ho chiamato un number in modo del tutto opaco un number può essere qualunque cosa e quindi la posso riusare quindi poi il model potrò dire potrò chiedere al modello get t simulazione e poi gli chiederò anche get countries stanziali qui sto mescolando l'italiano inglese in modo vergognoso ma almeno sappiamo di cosa stiamo parlando model devo implementare questi tre metodi il primo per lanciare la simulazione gli altri due per restare i risultati poi ovviamente da questi risultati estratti li dovrò visualizzare quindi questo sarà simulazione tempo tempo di simulazione e questo sarà una lista di country and number e a questo punto avendo questi stamperò il messaggino guarda ci sono la simulazione durata t passi e le azioni sono queste possiamo anche farlo adesso già che abbiamo il controller aperto txtresolve punto append text simulazione dallo stato di partenza più partenza più a capo txtresolve punto append text durata due punti simulazione t passi a capo e poi tutti gli stati quindi avrò for country and number cn due punti istanziali txtresolve punto append text di nazione cn punto get country il testo dice stampami la abbreviazione e lo stato quindi get state abbreviation più ci mettono più una virgola qua scusate nazione l'abbreviazione trattino cn punto get country punto get name quindi scritto nazione due punti ita trattino italia poi ci aggiungo ancora spazio stanziali uguale e a questo punto ci posso mettere cn punto get num number e a capo e a capo vediamo di renderla leggibile no perché queste qua non saranno mai leggibili ma per lo meno visualizzabile quindi appendo nazione state abbreviation trattino state name spazio stanziale uguale number a capo e mi fiderò del fatto che il modello mi dia questa lista ordinata come mi serve e beh adesso nel modello non dobbiamo fare altro che implementare questi tre metodi che sono poco più che dei passacarte tra il controller e il simulatore come sempre scrivere nel controller è sempre antipatico perché sei sempre lì che fai controlli di errore metti formatti stringhe fai cose brutte no? vabbè però qualcuno deve fare invece mettiamo implementiamo i metodi più semplici simula lancia la simulazione quindi innanzitutto crea l'oggetto simulatore lo inizializza e lo lancia poi ovviamente il modello dovrà ricordare ricordarsi i risultati di questa simulazione quindi l'oggetto simulatore me lo devo salvare all'interno del modello perché poi dopo un po' il controller mi chiederà come è andata la simulazione quindi l'oggetto simulatore fa parte delle variabili del modello questo oggetto che l'ho dichiarato nella classe modello lo inizializzo qua creo il simulatore creato il simulatore lo inizializzo init passandogli il grafo e la città di partenza la città di partenza è ciò che mi arriva direttamente come parametro dal controller e eseguo la simulazione quindi il controller ogni volta che chiama simula verrà creato un simulatore apposito per fare esattamente quella simulazione lì e subito dopo il modello saprà dire al controller ciò che gli serve quindi tempo di simulazione che a questo punto è facile facile perché basta chiederlo al simulatore gett l'altra cosa un pochino meno facile è invece restituire l'elenco degli stati con le popolazioni però anche qua il modello lo sa fare quindi getCountStanziali cosa può fare questo metodo? beh al simulatore chiede i getStanziali solo che getStanziali è una mappa io devo convertire quella mappa in una lista e ordinarla per numero niente di simpatico ma neanche niente di difficile quindi mappa country integer mappa mappa uguale il simulatore mi dice qual è la mappa in cui ha calcolato tutti gli stanziali io però devo mettere in una lista quindi mi devo creare una nuova lista di country and number che sono gli stanziali che devo restituire chiamo risultato così mi ricordo che è quello che devo restituire new array list e trasferisco il contenuto della mappa all'interno della lista dopodiché ordino la lista dimmi io ho una domanda del sesso maggiore sì perché ho fatto un po' di torno a parte del testo visto che alcuni miglioranti torneranno a parte del testo sì quello che ho detto è la mentale no c'è anche scritto nel testo e quindi è possibile che alcune persone torni indietro nello stesso stato in cui erano al tempo t è un fenomeno normale e non deve essere trattato in tempo sì 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 è normale allora eravamo qua dalla mappa creo la lista quindi per ogni elemento country county c di mappa punto keyset per ogni chiave aggiungo result un nuovo county number che ha come country c la chiave della mappa e come number mappa punto get di c quindi creo un nuovo country number che prende c country e il numero associato al country nella mappa li mette a fianco nella struttura country number e si fa una lista di queste strutture ultimo passo ordinare questa lista intanto mi piace anche di più ordinarmi questa lista che mi sono fatto io dentro il modello senza andare a modificare eventualmente una lista in questo caso è una mappa quindi non ci potevo fare nulla ma forse anche stata una lista del simulatore non vado a riordinargliela che magari lui non fa piacere che gli cambi l'ordine degli elementi quindi mi sono fatto una copia mia me la ordino e la restituisco al mio chiamante in questo caso la copia era obbligatoria perché dovevo passare una mappa a una lista non si fa da solo e allora posso fare un collections.sort ordino la lista result attraverso un comparatore di country number avete già visto questo sintassi io ho bisogno qua di una classe comparatore che mi dica come confrontare due oggetti country number e io li voglio confrontare per number decrescente allora dovrei farmi un'altra classe a parte che sia il comparatore country number comparatore per numero decrescente e qui farei nudi quella classe lì ok? una classe che uso in un posto solo allora questa è una scorciatoia classe che implementa un'interfaccia questa è una scorciatoia per definire una classe anonima in line quindi questa new è fatta non sul nome di una classe ma sul nome di un'interfaccia e vuol dire vedete che tu l'ho messa dentro le parenti di una funzione quindi un punto dove ci andrebbe un numero o un oggetto qualunque questo sta dicendo creami inventati una classe di nome non mi importa nascosto anonima che implementi questa interfaccia e creami un oggetto di quella classe lì e lui già lo fa dice va bene ti invento una classe però dammi i metodi di questa classe non c'è problema te li do qua aperta e chiusa graffa è una aperta e chiusa graffa dentro delle parentesi tonde di una chiamata di funzione anzi la chiusa graffa è qua sotto quella della classe però è solo difficile da leggere ma concettualmente anziché dichiarare una classe da un'altra parte che sia fatta esattamente così e qui mettere il nome di quella classe visto che quel nome so già che non lo uso da nessuna parte è una cosa che usa e getta la si può implementare così chiaro che la leggibilità ne soffre però se sappiamo cosa facciamo risparmiamo un paio di passaggi allora noi cosa dobbiamo semplicemente fare confrontare questi due counting number in modo decrescente ok? e quindi devo fare non 1 meno 2 ma 2 meno 1 non questo meno l'altro ma l'altro meno questo quindi o2 punto get number meno o1 punto get number quindi ho usato la versione di sort che prende come parametro una lista e un comparator che ho creato in line a questo punto se non ho sbagliato posso ritornare il risultato che ho appena ordinato quindi mettiamo solo due righe di commento converti la mappa in una lista la mappa country virgola integer in una lista di country and number niente oggi mi scappano le maiuscole nella seconda lettera e poi ordina la lista per valori decrescenti di number allora vediamo se funziona o se abbiamo dimenticato qualche pezzo allora anno 2000 scelgo vediamo l'Italia di cui conosciamo i confini vabbè tutti questi 0 potremmo non stamparli forse conviene allora la durata della simulazione è stata di 4 passi in Italia sono rimaste 550 persone 53 in Germania 49 in Austria vabbè poi ci sono tutti questi staterelli fasulli 36 36 34 32 e via via che gli stati verso cui andiamo hanno un numero di transizioni diverse quindi una distanza maggiore dall'Italia diminuisce il numero di persone che si è fermata fino ad arrivare a stati che non vabbè il Gabon o la Repubblica Centroafricana non ci sono stati abbastanza migranti per poter arrivare fino a lì vedete che questi numeri sono diversi non sono tutti uguali anche per gli stati direttamente confinanti perché poi c'è un travallo tra uno stato e l'altro e vari stati tra di loro hanno un numero di confinanti diversi quindi la simmetria si rompe subito dopo il primo passaggio da alcune strade magari la simulazione prosegue per più passi perché è o meno confinanti quindi si disperdono di meno da altre strade invece si esaurisce prima perché magari ho tantissimi confinanti e quindi questo numero di migranti diminuisce ovviamente esponenzialmente ciascun passaggio se io partissi da un altro stato che magari ha meno confini cosa posso prendere il Portogallo che confina solo con la Spagna e mi dice vedete che le proporzioni sono molto diverse perché in Spagna che è il primo vicino siamo fermati 290 persone anziché 63 che è il primo vicino dell'Italia Francia Andorra e poi è subito crollato perché poi da lì il numero di confinanti aumenta tantissimo e quindi il numero di persone diminuisce moltissimo ok? allora io l'unica ancora correzione che mi sento di fare a questo è nel controller mettere se c.get number cn.get number è diverso da 0 stampa sta roba altrimenti non stamparla c.get number c.get number va bene va bene allora io a questo punto mentre pensate se avete delle domande poi magari me le fate in intervallo volevo solo spendere qualche minuto a parlare delle regole di esame cioè operative praticamente avrete visto e se non avete visto ve lo faccio vedere adesso che qua erano descritte in un documento trussito le regole di esame che sono riassunte da questa sorta di flow chart che vorrei solo leggere insieme a voi ok così siamo organizzati per 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 l'esame prima di leggere il flow chart vi voglio ancora dare due input uno sul fatto che faremo due esercizi nuovi nella settimana prossima finora abbiamo fatto temi di esame vecchi la settimana prossima faremo un esercizio in laboratorio mercoledì che è la simulazione d'esame nuovo non mettiamo il testo prima lunedì lo vedete direttamente mercoledì in laboratorio come succederà l'esame ok e un altro esercizio lo faremo tra lunedì e martedì in aula in questi due casi vi presenterò esercizi nuovi uno sarà una simulazione l'altro sarà una ricorsione che sono i due macro temi che possono capitare all'esame su due dataset nuovi ok questi due dataset su cui lavoreremo la settimana prossima saranno i dataset dell'esame dei primi due appelli d'esame ok quindi all'esame vi dico già adesso quali sono i database su cui lavorare poi che cosa c'è da farci sopra no però almeno non avete sorpresa del tipo devo capirmi i dati quali sono li conosciamo già la settimana prossima ok ok quindi stima prossima abbiamo questi due gli altri anni in cui capitavano meno feste di mercoledì riusciamo a fare due simulazioni complette in laboratorio quest'anno facciamo una in laboratorio e una in aula allora come funziona la logistica allora soprattutto i primi appelli sul portale c'è una data è un'ora ma la data fa fede l'ora no perché noi non ci stiamo tutti contemporaneamente in laboratorio quindi farò due o tre di solito il primo appello costretto a fare tre turni di esame con dei compiti ovviamente diversi l'esame a un'ora di inizio io faccio l'appello 20 minuti prima poi sul portale scrivo bene tutte le ore però concettualmente 20 minuti prima faccio l'appello vi chiamo in aula e ciascuno si mette a uno dei computer del laboratorio ovviamente si può lavorare solo sui pc del laboratorio dell'esame avete 20 minuti di tempo per prepararvi cioè accendere il computer vedete che funzioni Eclipse il database eventualmente caricarvi dei progetti dei programmi del codice che avete tutto quello che volete ok se vi portate una chiavetta con i vostri progetti vi conviene magari avere un progetto di prova molto semplice lo metti dentro lo faccio partire così vedi che funzioni tutto nella configurazione del computer database password eccetera quindi quei 20 minuti vi sistemate ok se ci sono dei problemi con i computer cerchiamo di risolverli vi spostiamo di macchina cose di questo genere in modo che allo scoccare all'inizio del tempo i problemi tecnici li abbiamo messi da parte all'inizio dell'esame vi chiederò di far sparire tutti i dispositivi elettronici nel senso che se avete i file che vi servono o ve li tenete su github tanto avete accesso a internet durante l'esame o ve li copiate su computer ma non voglio vedere chi avete perché vuole la chiavetta mi è caduta l'ha preso lui non sono cose brutte e quindi carta va bene roba online va bene ma basta durante l'esame vi distribuiamo il testo che sarà scritto su carta e vi proietto un link da cui scaricare il progetto purtroppo per ragioni di negli appelli in cui facciamo più di un turno non lo posso caricare su github perché altrimenti lo vedrebbero tutti negli altri appelli magari lo carico un secondo prima su github in modo che lo possiate lavorare quindi vuole dire che vi vorrò scaricare un file zip da importare in eclipse non è che cambi nulla ok voi avete il testo stampato così lo potete pasticciare più comodo che non il pdf e ovviamente il pdf è anche nel progetto c'è il progetto dentro c'è il database dentro lo scaricate lo installate eccetera eccetera e avete a quel punto due ore in cui svolgere per l'esame ok noi qui c'è scritto controllo feroce nel senso che non provate a comunicare essenzialmente già potete usare il computer con tutto internet internet lo usate per reperire informazioni ma non per scambiarla con gli altri tanto si vede cosa avete aperto sullo schermo ok l'esercizio sarà sempre fatto su due punti il consiglio è cercare di arrivare rapidamente alla fine del punto 1 provandolo a compilare sempre frequentemente in modo da essere sicuri di non arrivare all'ultimo momento con un problemino stupido che poi vi manda nel panico e salvarsi quella parte lì quella versione lì che funziona che quella è la vostra promozione la mettete in tasca poi cominciate a lavorare sul punto 2 anche lì continuate sempre a controllare man mano che andate avanti sul punto 2 che il programma continua a funzionare cioè che non avete fatto le modifiche che vadano a a non far più funzionare il punto 1 essenzialmente a far regredire il punto 1 alla fine del tempo tempo finito vi chiedo di uscire tutti dal laboratorio e poi vi richiamo uno a uno dentro anzi in realtà siamo in tre a fare esami quindi vi richiameremo tre a tre in questo momento tra l'uscita e rientrare se qualcuno si accorge di aver fatto un lavoro non degno può ritirarsi anche in quel momento può ritirarsi in qualunque momento ecco però alla fine dell'esame avete quei 5 minuti per parlarvi tra di voi confrontarvi e se qualcuno vuole ritirarsi dice me ne vado non sto ad aspettare il mio turno magari vado a casa prima eccetera però per me benissimo lo potete decidere voi chi è rimasto uno per uno viene al pc quindi ci sediamo a fianco e voi quando uscite lasciate il computer acceso con Eclipse aperto così come era normale eseguiamo il programma quindi lo faccio partire e proviamo noi a farlo funzionare a giocarci inserire dei dati fare delle prove eccetera e verifichiamo che il programma restituisca i risultati corretti senza eccezioni senza generare nessuna eccezione nelle funzionalità descritte dal punto 1 quindi lì in aula guardiamo solamente ciò che era richiesto per il punto 1 deve funzionare tutto bene non andiamo a considerare in quella valutazione non andiamo neanche a guardare il codice se va bene non guardiamo neanche il codice non guardiamo più di tanto l'efficienza neanche perché non guardano i codici non capiamo chiaro che se un programma anziché metterci 10 secondi ci mette 4 ore non abbiamo il tempo materiale di vederlo in laboratorio se finisce o no e se calcola il risultato giusto o no però se ci mette 30 secondi o se ci mette 3 minuti non importa ok? se avete fatto delle scelte anche perché poi l'efficienza a volte uno lo fa lo implementa se a cosa che è lento allora lo ripensa ma in 2 ore dovendo fare ancora la seconda metà dell'esame non c'è anche questo tempo a volte di riflettere quindi l'importante è la funzionalità poi se lo fate efficiente è meglio per voi perché siete riusciti a svilupparlo più in fretta e a testarlo più in fretta se il primo punto funziona è accettato se il primo punto non funziona invece l'esame non è superato in realtà noi abbiamo un po' di margine nel senso che io cerchiamo di tarare il testo dell'esame diciamo in modo che il primo punto sia intorno al 20-21 come punteggio quindi se il primo punto è perfetto non avete proprio 18 avete 20-21 a seconda poi delle difficoltà del singolo appello se c'è qualche piccola imprecisione che so metterli in ordinati non li hai messi in ordinati o cose del genere allora magari perdete un punto 2 ma riuscite ancora a rimanere sopra la soglia se invece scendete sotto la soglia niente è finito lì nel senso che però la cosa positiva è che voi nel momento in cui uscite dal laboratorio sapete già se avete superato l'esame o no se non avete superato finito se l'avete superato sapete già il voto minimo poi nel caso in cui spero di no non abbiate fatto nulla praticamente della seconda parte quel voto è già il voto definitivo se invece avete provato come spero a fare anche il secondo punto siete arrivati a un certo punto vabbè chiaramente da lì in poi a salire fino a 30 e 30 e più allora a quel punto vi chiediamo di esportare su chiavetta un file il vostro progetto Eclipse e ce lo guardiamo con calma ok noi non richiediamo non pretendiamo neanche per il 30 che il progetto del punto 2 sia tutto perfetto ottimizzato no non c'è il tempo materiale per debaggare tutto se è bene magari uno ha avuto il copo di fortuna ma però quello che facciamo è andremo a vedere il vostro codice come avete impostato le strutture dati come avete impostato gli algoritmi se ha senso cosa che avete fatto il ragionamento che c'era dietro è un po' come se quando uno correggio un compito scritto andiamo a vedere ciò che avete scritto poi proviamo anche a farlo funzionare per sfizio nostro per dire vediamo un po' se funziona o quanti casini genera oppure no però la cosa importante la valutazione che diamo non è sul fatto che funzioni o no che trovi il valore ottimo o no ma su come l'avete impostata la parte di simulazione o di ricorsione che sarà richiesta nel punto 2 a questo punto questo ci richiederà un numero di giorni variabile a seconda ovviamente di quanti compiti sono stati consegnati consegnati e in cui la parte 2 sia stata fatta e dopodiché vediamo i risultati finisce lì poi c'è la registrazione online ma niente di più ok c'è una domanda dimmi ha dimenticato la domanda o gli ho risposto leggendo il pensiero ok direi che se non ci sono domande io vi saluto vi lascio un po' di pausa e dopo finite con Andrea l'esercizio che avete iniziato ieri ok